Grazie Presidente. Rappresentanti del Governo, diremo da subito, come Fratelli d'Italia, che siamo contrari al decreto legge sul Super Green Pass e quindi voteremo contro, fermamente diremo no. E rispetto a questo e anche rispetto al racconto della collega che mi ha preceduto, io voglio soffermare l'attenzione e richiamare l'attenzione di quest'Aula alla perdita che ha vissuto quella mamma in questa settimana, mentre noi stavamo affrontando le discussioni generali legate al decreto legge sul Super Green Pass, mentre stavamo vivendo l'ennesima posizione di fiducia, la 36esima in meno di un anno da parte del Governo Draghi, mentre noi stavamo parlando proprio del Green Pass, una mamma a Sassari abortiva in un parcheggio davanti a un ospedale, mentre gli veniva negato l'accesso, seppur aveva il Green Pass perché non aveva il tampone molecolare. Io vi racconto questa storia, perché è questa storia che dovrebbe fermare il Governo, fermare la maggioranza e imporre una riflessione, perché evidentemente c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va se un ospedale non accoglie una donna che ha dei dolori addominali e che sta rischiando di perdere il proprio piccolo e che non vede quindi quell'ospedale prendersi cura di sé, ma invece vede rifiutarla. C'è qualcosa che non va e quindi noi tutti siamo richiamati a dover comprendere ciò che è mancato, ciò che ha lasciato quella donna e quel papà soli. E' rispetto a questo che io voglio richiamare la vostra attenzione. Prima di tutto mi stringo a quella mamma e a quel papà, perché non c'è dolore più grande, non c'è sofferenza più grande di perdere quella creatura che stavi portando in grembo. E poi successivamente vorrei continuare ad illustrarvi le motivazioni sulle quali si poggia il nostro no. Perché vedete, sempre per quanto riguarda l'assenza delle cure, un altro dato drammatico che abbiamo è quello che abbiamo registrato in questi due anni di mancanza di oltre 4 milioni di screening oncologici. Abbiamo vissuto la mancanza di interventi chirurgici che vanno tra il 50% e l'80%. Abbiamo vissuto una didattica a distanza che continua a perpetrarsi e anche in questi mesi dell'anno viene proposta, anzi imposta, ai nostri studenti a fronte di un oggi provvedimento che condividete, cioè quello dell'introduzione della reazione meccanica controllata e che Fratelli d'Italia vi chiedeva di poter attuare nelle scuole da oltre un anno e mezzo. E' prova della verità e della concretezza delle nostre iniziative e delle nostre anche proposte via il fatto che nella regione Marche il nostro governatore Acquaroli ha introdotto la reazione meccanica controllata già da un anno. E allora vedete, la nostra non è un'opposizione strumentale, non è un'opposizione fatta di forma e non di sostanza. La nostra opposizione è un'opposizione responsabile, un'opposizione responsabile che nasce da fatti concreti e da azioni concrete, sulle quali noi vi richiamiamo ad un senso di responsabilità. E sa, Presidente, noi riteniamo che il grande assente oggi sia proprio il Ministro Speranza. Ci sono dei momenti, delle fasi del dialogo tra Governo e Parlamento che impongono che sia un Ministro a venire in quest'Aula e a metterci la faccia rispetto alle decisioni che ha assunto sin dall'inizio della pandemia. Questo è indispensabile come atto di dignità, di umanità, di rispetto per il Parlamento ma in quanto il Parlamento è il rappresentante del popolo italiano. Sembra che il Ministro Speranza sia immune da tutto, anche dal senso di responsabilità e dal rispetto delle istituzioni. E in una settimana come questa, in cui noi affrontiamo la questione del Green Pass, del Super Green Pass ma anche del fallimento di questa misura. Perché, badate bene, Fratelli d'Italia è assolutamente a favore dei vaccini e come prima forza politica all'inizio della pandemia ha chiesto la diffusione di una campagna vaccinale puntuale e capillare. Ma cosa diversa è il Green Pass e non ci stiamo ad una comunicazione che appiattisce tutto. Continuiamo a confrontarvi nel merito e nel merito il Green Pass ha fallito e ha generato confusione. E di questo ne sono responsabili certamente il Ministro Speranza ma anche il Presidente del Consiglio, Mario Draghi. È lui che in una conferenza stampa ha detto tutti liberi quando vi trovate in un ristorante e avete il Green Pass. Potete stare tranquilli, il contagio non avverrà. Questa è una falsità sostenuta dal Presidente del Consiglio sostenuta dal Ministro della Salute e che per tali ragioni doveva richiamare una loro presenza in quest'Aula per motivare, giustificare e poi chiedere scusa. Chiedere scusa a quella mamma di Sassari perché in ragione delle assurdità e della confusione degli accessi addirittura un ospedale è stata lasciata fuori. Chiedere scusa ai milioni di italiani che sono stati lasciati nella confusione nel credere che non fosse necessario indossare anche questa mascherina oltre alla vaccinazione, oltre al tampone e che quindi a causa di un governo distratto, distante e confusionario non hanno protetto la loro salute con tutte le misure con le quali e attraverso le quali è possibile farlo. Sono queste le ragioni per le quali vi richiamiamo ad un'assunzione di responsabilità come maggioranza e come esponenti del Governo. sul punto e quindi lasciando come primo punto all'ordine del giorno la necessità di vaccinarsi e di proporre una campagna di vaccinazione campillare noi vi chiediamo invece di assumervi le vostre responsabilità sulle scelte prese per quanto riguarda la proposizione si e dire è costante e aggravata di un Green Pass che è diventato un super Green Pass un triplo Green Pass un quattropo Green Pass con conversioni di decreti legge che in 45 giorni si sono susseguiti senza lasciare al Parlamento la possibilità di riflettere, di ragionare e anche di aiutarvi permettendo a questo Parlamento di aiutarvi. ovviamente continueremo a farlo continueremo a cercare di aiutarvi per il bene degli italiani nonostante i vostri no sono tanti in ultimo il no sull'equiparazione della quarantena a stato di malattia come riconoscimento economico per i lavoratori dipendenti privati avete detto un'altra volta no per cui ci sono dei lavoratori dipendenti pubblici che hanno la quarantena riconosciuta economicamente e dei lavoratori dipendenti privati invece alle quali viene negata è un'assurdità e allora e arrivo veramente alla fine è esaurito il suo tempo e chiudo ovviamente il mio intervento in dichiarazione di voto dicendo che è su queste ragioni che noi diremo no alla conversione di questo decreto legge perché non possiamo non vogliamo essere vostri complici int Greece grazie a tutti grazie a tutti